La missione ufficiale al finanziamento da 10 milioni di euro attraverso fondi del PNRR risale allo scorso anno. L'amministrazione comunale insieme all'Università Core di Enna, Sicindustria e Adenia ha sostenuto il progetto ribattezzato SINAPSI, acronimo di Sistemi Innovativi Applicati in Sicilia, per realizzare un vero e proprio polo tecnologico, riqualificando per intero una vecchia struttura dell'exasi incontrata a Brucazzi. Per diversi mesi però si è saputo ben poco dello sviluppo della procedura successiva alla via libera ministeriale. Ora gli atti sono alla presidenza del Consiglio Comunale, con il presidente Salvatore Sammito che ha iniziato a valutarli e dovrebbero arrivare a breve all'assise civica. Uno dei passaggi fondamentali dell'iter è quello dell'acquisizione della struttura da parte del Comune, mentre progettazione e successivi i lavori dovrebbero essere a carico dell'Università Core. Lo scorso anno il progetto fu seguito anche dall'assessorato allo sviluppo economico, l'ex vicesindaco Terenziano Di Stefano e i tecnici del settore insieme ad esperti monitorarono l'evolversi. Secondo Di Stefano prima di tutto serve comunque una delibera di giunta come atto di indirizzo. Per l'ex assessore non si può delegare tutto al Consiglio Comunale, soprattutto perché occorre formalizzare l'acquisto dell'immobile da parte del Comune. Di Stefano ribadisce che è un'operazione che richiede sempre la massima accuratezza, maggior ragione in una fase di crisi finanziaria dell'ente comunale. L'ex vicesindaco e il gruppo consigliare di una buona idea cercheranno di capire se siano già stati fatti dei passaggi con il Ministero. Trattandosi di fondi del PNRR, ritiene lo stesso Di Stefano, in una procedura d'acquisto, banzitutto ottenuto un riscontro dal Ministero. Ancora una volta i civici tornano a lamentare i tempi troppo stretti. Procedure di così evidente importanza che coinvolgono l'Università, Sicindustria e Edeni, come spiega ancora Di Stefano, arrivano sempre al limite delle scadenze previste. Secondo l'esponente civico, la responsabilità questa volta non è da attribuire al sindaco, ma a quei funzionari e dirigenti che credono di sapere tutto, invece dimostrano di non conoscere le procedure e di non studiare con accuratezza. Si rischia quindi di causare danni notevoli. Il polo tecnologico, pensato inoltre come incubatore di imprese giovanili e start-up, secondo l'esponente civico, è comunque un punto di rilancio incredibile. Quindi l'atto va necessariamente votato e approvato? Chiaramente bisognerà capire se ci siano ancora i tempi necessari. Sono tutte valutazioni che andranno effettuate, anche perché con il provvedimento in consiglio si autorizza l'ente comunale all'acquisto dell'immobile che va poi formalizzato con tutti gli oneri del caso. Di Stefano è convinto che anche questa volta si sia data l'accelerata solo quando si è rischiato di arrivare troppo in ritardo. Una prima scadenza per la gara cadeva già lo scorso dicembre, ma è stata prorogata e ora bisognerà fare in fretta per non perdere il treno del polo tecnologico.